Sembra una maledizione quella che ha colpito Colantà, versione francese del reality show Survivor. Due settimane fa la morte per arresto cardiaco di uno dei concorrenti, Gérald Babin. Questo lunedì la casa di produzione ha diramato la notizia del suicidio del medico ufficiale della trasmissione. In una lettera scritta a mano, Thierry Costas si è difeso contro le accuse circolate sui media di non aver fatto il possibile per salvare il 25enne, come racconta il numero uno della casa di produzione del reality show. C'è una grande rabbia contro i testimoni anonimi, contro le false accuse, contro coloro che sparlano senza verificare tutte le informazioni. Esperto di medicina d'urgenza, era stato lui a fornire il primo soccorso a Babin finendo dopo la cancellazione del programma, dritto nel tritacarne mediatico. Nel suo commiato ha chiesto di essere cremato e che le sue ceneri non tornino mai in Francia.